Non sei divertente, Ember! Ti andrebbe di fare un gioco, Tara! Porte sbloccate! Oh mio Dio! Porte bloccate! Porte sbloccate! Pronto? Sta succedendo di nuovo! Tre aggressioni finora. Hai una pistola? Sono Sidney Prescott. Ce l'ho una pistola. Questa volta però sembra diverso. Samantha, io sono... So chi è lei. Ci sono già passata. Più volte. Questa è anche la tua vita adesso. L'assassino continuerà a darti la caccia. Pronta? Per questo? Mari. Fermati, aspetta, aspetta! Ci sono delle regole per riuscire a sopravvivere. Le vittime erano imparentate con gli assassini originali. Qualunque sia il suo legame con noi, ci ha fatti venire qui. E sarò tranquilla solo quando sarà sottoterra. Ciao, Sidney. Ciao, Sidney. E' un honor. Ciao, Sidney. Comevi... Grazie a tutti.